Bentornati ragazzi, oggi andiamo a distruggere una casa molto più grande Andiamo, ok Da quello che sapete si inizia sempre dal martello, ci hanno pagati milioni per fare questa cosa Quindi, allora Innanzitutto iniziamo dalle colonne Ecco, una Così diamo meno forza alla casa Poi continuiamo con i vetri Uno vetro Ok, vediamo un po' com'è dentro Qua c'è una stanza che potrebbe essere, non lo so Questo è il bagno, molto interessante Andiamo comunque a lavorare un po' sulla casa Allora, qua non c'è il secondo piano Vediamo un po' cosa c'è Cosa c'è Ci siete? Sì che ci siete Finestra Finestra E adesso Qui vabbè, solita stanza Allora, come sapete tutti Vediamo un po' di distruggere un po' le scale Anche Iniziamo col fucile Quindi facciamo un po' di Finestra Adesso iniziamo un po' a fare più in serio Il nostro lavoro Che ci hanno fidato Aiuto Ok Andiamo di qua Non mi chiamo se è andato morto Andiamo di qua Mamma mia Ok, l'ultimo L'ultimo Di qua Ok Dopo lanza razzi un po' Di sparafuoco Non mi chiami mai Niente di male Mentre un po' Di sparafuoco Mannaggia Stavamo dicendo Non posso morire Perché la morte Ve la faccio vedere Questa altra volta Io ho un altro video Vi do Vi do Vi do Vi do Vi do Vi do Niente Si Vi do Vi do Non mi ha Tutto Il genere Vi stiamo Niente Guarda E noi Ci vediamo Nun prossimo video Ciao Ciao